Dopo gli episodi di violenze sugli animali avvenuti nel territorio di Olbi è intervenuto il primo cittadino a settimo nizi. Sono stati presi di miragatti ma in particolare alcuni cani. L'ultimo episodio risale a metà febbraio quando una cagnolina magra e disidratata è stata trovata con il muso devastato da una fucilata. Subito prese in carico dal canino albiese le sono state date le necessarie cure e ad oggi è in via di guarigione. Purtroppo abbiamo in città così come in tutto il mondo episodi di grave aggressione e gravi danni nei confronti degli animali. Quello a carico dei cani specialmente i gatti si difendono un po' di più e viene male però fanno male anche ai gatti. Per quanto riguarda gli ultimi due episodi che sono stati quelli di aver trovato un cucciolo, un cane a cui avevano sparato è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Noi abbiamo sempre dato la nostra solidarietà però una cosa è dare la solidarietà, un'altra cosa invece è agire e fare qualcosa di più concreto. Io spero che nel più breve volgere di tempo i responsabili vengano assicurati alla giustizia e il Comune di Olbia naturalmente in quel caso si costituirà parte civile. Bisogna dare un esempio, bisogna fare in modo che tutti i cittadini, se noi abbiamo una cosa con cui possiamo star bene sono gli esseri umani innanzitutto e in secondo luogo sono gli animali di affezione. I cani fanno compagnia, aiutano le persone sole, aiutano le persone con disabilità ma soprattutto aiutano dal punto di vista psicologico molti di noi. Per cui ritengo che sia un dovere morale di un'amministrazione comunale fare queste cose.